Quando pare lo sport più difficile per me è quello di tenermi in tasca i miei soldi, soprattutto la settimana è il Black Friday, ho fatto veramente schifo, ho fatto un po' di acquisti, voi mi avete chiesto di farveli vedere e allora io vi porto i miei acquisti della settimana è il Black Friday. Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, questo è un video plus, cioè un video che in realtà non dovrebbe esserci però me l'avete chiesto, ho visto che più di qualcuno me l'ha chiesto nei commenti e ho detto ecco vi faccio vedere cosa ho comprato il Black Friday, partiamo dal presupposto che ho speso una barca di soldi e voi questo non dovete farlo, ho speso tanti soldi più che altro perché ho comprato il Black Friday. Ho comprato tutto quello che mi serviva per lo studio e mi ero detto proprio in quella settimana svaliggi le warehouse deals perché mi devo fare lo studio, effettivamente ho svaliggi le warehouse deals. Una cosa molto strana rispetto al solito è che non ho beccato quasi niente che non andasse, anche se di alcuni prodotti non sono pienamente soddisfatto ma adesso ne parleremo nello specifico di tutti quanti. Cominciamo dal primo che è probabilmente anche il più inutile, ho comprato una webcam, saddi perché compri una webcam, tu hai già una telecamera, perché non compri un obiettivo per esempio, perché non compri un treppiede, perché non compri una steady, perché hai comprato una webcam? Il progetto che mente è quello appunto di fare, magari iniziare a fare i video in multipov e comprare una webcam rispetto a comprare un'altra fotocamera con un altro obiettivo è un pochettino più fattibile, riesco anche a controllarla meglio dal computer, io guardo lì perché ce l'ho lì. La webcam è una Logitech C920, la conoscevi tutti quanti, è la webcam degli youtuber, tra virgolette tutti quanti ne hanno una, devo dire che registra abbastanza bene con le condizioni di luce in cui l'ho messa, registra ancora meglio e ci mancherebbe pure. L'ho comprata anche perché si vocifera che un giorno qui da me dovrebbe arrivare la fibra e potrei anche iniziare appunto a fare magari delle live, live di assemblaggio, ma non solo live a caccia di offerte con saddi e cose di questo tipo. Per esempio un'idea molto carina che avevo in mente il giorno del Black Friday era una specie di shopping live, nel senso che stavamo un pochettino in live, trovavamo gli affari insieme, compravamo qualcosa eccetera eccetera, insomma diventava un'opportunità per tutti quanti sia per trovare un affare che li cercavamo insieme, sia appunto per stare un pochettino per chiacchierare, ovviamente poi sapete com'è andata che mi sono ammalato e non l'ho potuto fare. Un altro attrezzo che ho comprato sicuramente lo stare vedendo in questo momento perché io lo vedo da qui, che praticamente dentro questa schermata voi che cosa vedete? Questo qui. Questo qui è un microfono, che microfono è? Un Marans, un Marans MPM1000 mi pare, c'ha più numeri e nomi sto coso che è veramente un codice fiscale. E' un microfono XLR che significa che non va attaccato USB, c'ha il cavo questo qua grosso, quello proprio dei microfoni tipo quello dei cantanti, questo perché dovrebbe essere un microfono semi professionale. Vi dirò la verità, l'audio non mi fa impazzire, devo dire che questo è il prodotto a cui l'ho abbinato, non è che mi abbiano dato proprio questa grande impressione. A me piace molto quell'audio ricco, quell'audio proprio che si sente dai professionisti dell'audio, quell'audio anche un pochettino da podcast, quell'audio comunque che vi riempie le orecchie. Questo qui mi dà sempre l'idea che sia un po' piatto, cioè tanto per farvi capire, io prima avevo il Samsung Meteor che ho smesso di usare perché era scomodo da usare e perché comunque alla fine mi dava quasi la stessa qualità del mio Boia, la valiera che avete visto per tanto tempo. A quel punto ho detto ma si uso il Boia, è più piccolo, non si vede, mi da meno in piccio e va pure meglio. E il Samsung l'ho accantonato, ora ho detto no vabbè dai questo forse ne vale la pena. Insomma non è che ne valga proprio la pena, secondo me ci sono idee migliori, ho comunque due mesi di tempo per mandarlo indietro, ora lo spreo un pochettino per bene. Per il momento non ne sono soddisfatto. Allo stesso modo il prodotto a cui l'ho abbinato, devo dire che va bene ma non benissimo come avrebbe detto qualcuno. Perché? Molto semplicemente perché probabilmente ho sottostimato le mie aspettative, cioè nel senso ho sottostimato quello che poi sarei andato a fare. Ho preso una scheda audio esterna, ho preso una Focusrite però ho preso la solo, non quella 2i2. Che devo dire che come qualità audio forse probabilmente gli dà pure una bella mano a sto attrezzo. Però il problema è che mi sono accorto che una sola entrata audio per me inizia a diventare veramente poco. Ecco, diciamo c'è anche un'altra entrata che io vedo lì, che però ci sta la chitarra sopra, quindi probabilmente è per uno strumento. Forse riesco anche ad attaccarci il boia, ecco. Potrebbe tornarmi utile soprattutto se faccio video con qualcun altro, perché mettere questo microfono, già se mi metto così, questo voi non lo sentite più. Se io sto qua e ce l'ho davanti e ci sta una persona qua, voi questa persona non la sentite. Con due entrate posso gestire due microfoni, posso far parlare due persone. Questa forse è la pecca più grande di questo prodotto, che poi alla fine comunque, quello che sta facendo, lo sta facendo bene. Devo ancora provarlo col boia. L'unico impiccio che c'ha sto coso è che ovviamente pure per le cuffie porta i jack grossi. Io ho soltanto cuffie con i jack piccoli. Una volta quando facevo il DJ c'avevo le cuffie con il jack grosso, purtroppo adesso non ce li ho più. E quindi mi devo accontentare di quello che c'è. Un altro prodotto che ho preso è... Vabbè, qui ho fatto un pochettino il cattivello. Sono passato alla autoscore della forza. Signori, ho preso una tastiera RGB. Mi serviva una tastiera per questo studio. Non potevo più usare la mia Fnatic che sta sopra. Tra l'altro anche la Fnatic inizia a perdere colpi. Probabilmente se ne andrà via. Ho già preso la sostituta che è una Logitech G910 pagata 40 euro. Gli affari del Sati, però questa l'ho presa un po' di tempo fa. Per questo invece studio ho preso una tastiera che è molto più piccola. È la DREVO Calibur. Perché ho preso questa tastiera? Molto semplicemente perché è meccanica. È piccola. È bella. È RGB. Non è che mi interessava più di tanto. Però soprattutto è una tastiera meccanica Bluetooth. E questa qui è una cosa molto importante. Perché voi non avete idea della marea di fili che ci stanno dentro questa stanza. Questa stanza è tutto un filo. È tutto collegato. Anche perché io ho la fobia delle cose che devo poter controllare tutte. Adesso per esempio io guardo in continuazione quel monitor. Per vedere se sta tutto a posto. Quindi ho tutto quanto collegato al computer. Tutto quanto collegato. E ovviamente per avere tutto collegato stanno un sacco di cavi in giro. Riuscire a toglierne uno con la qualità di una tastiera meccanica. Devo dire che va bene. L'unico difetto di questa tastiera è che è quella che c'ha 70 tasti. Fortunatamente poi col tasto FN. Io guardo qui perché qua ce l'ho. Riesco anche a comandarla tutta quanta. Però comunque mi diventa un pochettino complicato. Tra l'altro ho scelto gli Switch Black. Che sono tosti come qualcosa di tosto. Non fatemi fare i baragoni brutti. Io l'avevo preso perché è così. Poi non sbaglio a scrivere così. Premo forte. Non metto più lettere del dovuto. Invece manco per il cavolo mi impiccio più di prima. Però mi ci abituerò ovviamente. E riuscirò a sfruttarla al meglio. E poi passiamo al prodotto più importante che ho acquistato. Ah non vi ho detto una cosa. Questo qui l'ho pagato 50 euro. La Focusrite l'ho pagata 98 euro. Questa qui pure se non sbaglio l'ho pagata circa 50 euro. Quello che ho comprato che sto indicando in questo momento e che adesso voi vedrete a schermo oltrabilmente è quello che ho pagato di più. È un monitor per designer. Diciamo che l'ho preso apposta per questo. Praticamente molto spesso mi accorgo che faccio errori di color correction durante i video. Certe volte fanno veramente pena. Purtroppo molto spesso dipende da me perché non sono un professionista dei video né della fotografia. Sto imparando piano piano. Anzi devo dire che le cose sono anche migliorate rispetto a prima. Però comunque non sono un professionista. Sbaglio spesso. E soprattutto non ho gli strumenti adatti. Quindi ora ho utilizzato sempre il mio AOC da 24 pollici. Ma ho un pannello TN. Ho un pannello FreeSync. Ho un pannello da gaming. Ho un pannello che invece del nero ti fa il blu scuro. Quindi comunque non è fatto per fare questo tipo di lavoro. Questo che ho preso adesso sì. Questo qui è un BenQ PD27000Q. 2700Q. Anche questo ha una serie di nomi tanti. Che praticamente ha un pannello IPS. Mi sembra che sia anche a 10 bit. Ha una gamma di colori terrificante. Insomma è un monitor per designer fatto veramente bene. È un pannello in 2K. Spero di sfruttarlo con una scheda che gestisca il 2K. In questo momento non lo sto facendo. Ma devo dire che finora è la cosa che mi ha dato più soddisfazione. Soprattutto per il prezzo. Perché io questo monitor l'ho pagato soltanto 210€. Che per questo monitor è un prezzo allucinante. Visto che ne costa circa 4,50€. Ovviamente l'ho preso dal Warehouse Deals. Che cosa ho fatto? Ho preso questo monitor dal Warehouse Deals. Stava già a 2,90€. Meno 20% insomma 270 mi pare che stava. Meno 20% e arriva dal 2,10€. Il 2,90€ questo monitor è praticamente regalato. Va benissimo. Nella descrizione però mi diceva che era massacrato. Che ci stavano graffi. 8000 pixel rotti. Cioè un pixel è andato. Che tra l'altro mi sa che ho poi recuperato. Perché ora non lo vedo più. Tra l'altro è 1 su 2K. Quindi su 2560. Per il 1440. Circa 3.500.000 pixel. Quindi è proprio complicato andarla a vedere quell'una. Infatti non mi ricordo manco più dove sta. Immacolato. L'unica cosa è che ci mancava il cavo di alimentazione. E il cavo displayport. Al momento sto dando l'HDMI. Che comunque un problemi non me ne dà. Cavo di alimentazione qui ne ho pure troppi. Quindi devo dire che sto abbastanza bene. E niente. Quindi fondamentalmente ho speso circa 400€ in una settimana. Che sono buona parte del mio stipendio. Bra-bra-bravo. Bravo Saddi. Bravo. Tu fai le cose economiche. Tu proprio. Sì. Diciamo che però per adesso starò fermo con un bel po' con le spese. Anche perché lo studio almeno a livello di acquisti è finito. Come dice anche la sedia qui dietro. Questa è la nuova sedia dello studio. Non c'è più la poltrona rossa. Adesso c'è la sedia bianca. Detto questo. Spero che questo video vi sia piaciuto. Questo è un video che vi avremmo richiesto. È un video così più caldo per tenerci informati. Per farvi vedere. Magari se qualcuno è interessato agli stessi prodotti. Ve li lascio qui in descrizione. Se volete acquistarli. Magari voi dite. No. A me la voce di sto microfono mi piace. La scheda audio. A me l'entrata mi basta. Oh. Sto monitor figo. Lo voglio. Trovai tutto qui sotto. E niente. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao. Noi ci vediamo.